Tutto come nelle previsioni e come annunciato poche ore prima dallo stesso presidente rossonero Nicola Canonico, anticipati i tempi e ufficializzati i primi due tasselli da ieri sera. Massimo Brambilla è a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Foggia e Domenico Roma, il neodirettore sportivo del club di Viaggio Berti, entrambi ufficializzati con una nota della società in seguito al nulla osta ottenuto dai due ex club Juventus e Messina. Sia per Brambilla che per Roma, contratto annuale intesa fino al 30 giugno del 2025, con la proprietà sono già da qualche giorno al lavoro. Brambilla sta utilizzando questi giorni per valutare i calciatori attualmente sotto contratto, ma anche quelli a scadenza il prossimo 30 giugno, tra cui l'unico che pare avere qualche chance di riconferma è il centrocampista Moses Auger, mentre pare certa la partenza di Alberto Rizzo. Roma, Canonico e Brambilla, con il supporto di quello che verosimilmente sarà il responsabile dell'area tecnica Emanuele Belviso, sono al lavoro anche per individuare i primi tasselli da inserire in organico. Non saranno meno di una decina le operazioni in entrata del mercato rosso-nero. L'obiettivo è quello di portarsi avanti col lavoro per consentire al tecnico di partire già con una intelaiatura ben definita per il ritiro precampionato, che dovrebbe cominciare intorno al 20 di luglio e che a quanto pare non dovrebbe essere più svolto nelle marche. In queste ore la società di intesa con lo stesso allenatore sta valutando altre sedi.